Il messaggio lanciato da Padre Pum è stata una vera e propria lezione di amore e di umanità per voi l'intervista. Io con lei vorrei trattare l'argomento, non il classico degli auguri di Pasqua, di volemose bene, ma più che altro che tipo di società trapanese si avvia a vivere questa Santa Pasqua. La domanda è veramente molto insidiosa per certo verso, perché effettivamente cogliamo un momento estremamente difficile della società e forse proprio dalla difficoltà gravissima che incontriamo sentiamo quanto bisogno c'è veramente di Pasqua, della Pasqua del Signore Gesù, riaffermare questo in un momento in cui la nostra società, non solo trapanese naturalmente, ma magari a Trapani certi fenomeni si colgono magari con più particolare incisività, diciamo, ma è un momento davvero triste. Credo che tutti in questo momento piangono su questa nostra società, tutti piangiamo. E quello che è grave è che tutto questo, invece che farci riflettere, portarci davvero verso la Pasqua, cioè verso quello che è la risposta di Dio alle nostre situazioni veramente tragiche, noi invece continuiamo a dividerci. La crescita sociale, che poi è soltanto a vantaggio di qualcuno, perché tutti gli altri vengono semplicemente sfruttati, continuiamo a dire se vuoi star bene, la soluzione di tutti i problemi sociali è quella di guardarti dagli altri, perché gli altri sono quelli che ti rovinano, quelli che ti distruggono. Un principio come questo, proclamato in termini generali, significa semplicemente che ogni uomo è lupo per gli altri uomo e alla fine significa soltanto scannarci e quindi significa continuare a incamminarci terribilmente e velocemente sulla via della rovina. Questa nostra società, questa nostra Italia, questo nostro mondo ha veramente bisogno della Pasqua del Signore Gesù. Sì, sono un mare enorme di persone che celebrano questo mistero, ma come lo celebrano? Veramente abbiamo bisogno, noi per primi, noi come Chiesa, diciamo, ministri della Chiesa, di annunciare, di evangelizzare davvero la Pasqua del Signore Gesù, perché il popolo cristiano, i nostri fedeli, sperenta coscienza che cosa significa la Pasqua. In Gesù Cristo noi sulla croce vediamo tutta la sofferenza, tutta l'ingiustizia, tutta la corruzione, tutta la persecuzione, tutta la lotta contro il bene, che pensa di averlo incontrato sulla croce, come tante volte pensa nel riguardo di tutti i poveracci del mondo, no? E finisce per pensare che abbiamo vinto, no, abbiamo distrutto il mondo in questa maniera. A parte la classica frase, auguri a te famiglia, che magari quando si augura si ignora se l'altro abbia o meno famiglia, ormai è diventato un comune modo di dire. Che davvero ognuno di noi, toccato dalla Pasqua di Cristo, possa diventare presenza e strumento dell'amore di Dio per ricostruire questa nostra società. Auguri. 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 Auguri.